Grande prova dell'Asola che ottiene un pari nel big match con Lome, ma avrebbe meritato i tre punti al cospetto dei forti Bresciani. Al dodicesimo parata Diaccini sul tiro di Mandelli, al quarantaquattresimo ci riprova l'Asola con una sassata di Scalvenzi ben parata da Toffano. La ripresa è decisamente più frizzante, al cinquantaduesimo è ancora Scalvenzi impegnare Toffano, che si salva in tuffo. È il preludio al gol dell'Asola che arriva al cinquantaseiesimo, Di Mango entra in area da sinistra, tira, il portiere Toffano devia sul lato opposto dove arriva Kito, contro cross e stacco di testa in rete dello stesso Di Mango. Bello l'abbraccio del ragazzo 2001 a Mister Tavelli. Ma non c'è nemmeno il tempo di esultare che al cinquantasettesimo fura forte e fulmina a Cini con una sassata dai venticinque metri. L'Asola non demorde e continua a fare gioco, al settantaduesimo Kito impegna nuovamente Toffano, che si produce in una strepitosa parata. Al settantacinquesimo ancora Toffano, protagonista su un bel tiro di Scalvenzi. Il risultato tuttavia non cambierà più, l'Asola è più vivo che mai, è mancato solo un pizzico di fortuna.